Passo alla partita, andiamo avanti con le immagini e vediamo subito il gol di Socrates. Ecco, Socrates che non aveva giocato male contro il Napoli, ma oggi è stato fra i migliori in campo. Vedete come conquista questa falla, lo mantiene in campo, tiro diagonale, defetto, batte tutti anche Urzichi che rimane sorpreso. Al ventitreesimo reali Pellegrini ed è il 2-0, bel colpo di testa di Pellegrini. Al quarantaquattresimo, guardate, al quarantaquattresimo è il terzo gol di Massaro. Avevo segnato anche come Massaro aveva sbagliato un terzo gol fatto, ma tre gol per la razza oggi sono troppi.